Grazie, devo dire che hai colto esattamente qual è stato uno dei nostri principali obiettivi. Cioè il primo obiettivo è stato del tavolo che ho coordinato, il tavolo 2 sulla vita detentiva, la sicurezza e il 41bis, è stato innanzitutto quello di rivisitare il modello di vita detentiva, che è ancora sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, in cui il detenuto continua a essere un mero destinatario passivo di programmi trattamentali stereotipati ai quali è chiesto solo di aderire. Ieri è stato detto molto giustamente che la società che sta intorno a noi è cambiata in questi 30-40 anni, mentre il carcere è rimasto sempre uguale a se stesso. Ecco, noi quindi abbiamo cercato anche di cercare, di valorizzare, di fare delle proposte operative concrete nel senso della responsabilizzazione del detenuto. Il detenuto deve essere invitato, se non obbligato, a gestire innanzitutto parti della propria giornata. Infatti, una inedita attenzione, dopo i luoghi, è quella che è stata data da questi stati generali ai tempi della pena, e quindi ai tempi in carcere. Questo tempo, secondo quella felice espressione che ieri ho visto usare da Glauco Giostra, di una clessidra senza sabbia, in carcere il tempo trascorre senza che nulla succeda. Ecco, io credo che questo sia un punto fondamentale. Quindi, in una parola, il detenuto deve essere sfidato ad assumere decisioni responsabili. Il discorso del linguaggio, poi, è stato un punto cruciale del nostro esame. Al detenuto, come è noto, ci si rivolge ancora con termini infantilizzanti, e quindi noi sappiamo invece quanto in una comunità, in una comunità ristretta come quella del carcere, il linguaggio assuma un ruolo fondamentale. Quindi parole, Spesino, Scopino, Portavito, tutte parole che dovrebbero essere eliminate d'imperio. Quindi, se culturalmente non si riesce a fare in modo che la vita in carcere sia uguale a quella che sta fuori, per cui il lavoratore del carcere deve essere chiamato lavoratore non lavorante, è necessario che sia imposto. E quindi noi abbiamo anche, tra le nostre proposte, indicato delle raccomandazioni in proposito. Quindi questa deprecabile infantilizzazione del detenuto non fa che provocarne un isolamento dal mondo esterno, che crea ulteriori difficoltà poi per il possibile reinserimento. Ma la responsabilizzazione è centrale anche per chi, come noi, fa il lavoro del magistrato di sorveglianza, perché la responsabilizzazione è parte integrante del trattamento penitenziario. Se infatti il trattamento è tutto quel complesso di attività che devono promuovere un processo di modificazione significativa delle condizioni e degli atteggiamenti personali del condannato, che sono di ostacolo ad una sua concreta partecipazione sociale, se quindi si intende la rieducazione modernamente come appropriazione dei valori di solidarietà politica e sociale ed economica, che sono propri di un sistema democratico da parte di coloro che quei valori non hanno mai posseduto o che hanno perso, diciamo, proprio attraverso il processo che li ha portati a compiere il delitto. Allora il processo di l'acquisizione di una progressiva responsabilizzazione è sicuramente una questione cruciale. Si ricordava prima che le regole penitenziarie impongono la via per raggiungere la responsabilizzazione attraverso tutto ciò che possa rendere la vita del carcere uguale agli aspetti positivi della vita all'esterno. Ovviamente non prendiamo gli aspetti negativi, prendiamo solo gli aspetti positivi. Detto questo e scendendo più nel concreto, quali sono le proposte che noi abbiamo individuato nella nostra relazione, nel lavoro finale del tavolo numero due? Allora, innanzitutto, oltre a quello del linguaggio, anche può esserci una rivisitazione del sistema, per esempio, dell'accompagnamento del detenuto. In carcere, spesso, anche se su questo sono stati fatti dei progressi, il detenuto viene sempre accompagnato in un luogo. Da solo non ci va mai. Per chiedere qualcosa deve presentare, appunto, la famosa domandina. Oppure, lo ricordava l'architetto Zevi prima, la chiusura obbligatoria della cella nelle ore diurne. Cioè, la cella, così come prevede la legge, deve essere solo il luogo di pernottamento. Quindi la vita deve avvenire fuori. Quindi, finché non imponi, sia pur gradualmente e progressivamente, come abbiamo visto nei sistemi spagnoli, la chiusura obbligatoria della cella durante le ore diurne, il detenuto non scenderà. E quindi deve essere obbligato ad, appunto, a decidere responsabilmente anche come occupare le ore della sua giornata. L'uso delle tecnologie digitali. Dicevamo prima, il mondo è cambiato e il carcere è rimasto uguale. Quindi, internet, internet, e oggi so che se ne è parlato per un recente fatto di cronaca che ha tanto colpito l'opinione pubblica, ma internet è quanto di più positivo ci sia nella vita pubblica fuori. E quindi, necessariamente, deve anche entrare dentro il carcere. E anzi, è proprio attraverso l'internet, internet e gli strumenti di comunicazione moderna, che si obbliga il detenuto ad assumere decisioni di responsabilità. Ovviamente, nei limiti che possono essere indicati, sia dalla legge, sia dai regolamenti, sia dalle prescrizioni del magistrato di sorveglianza. Un'altra proposta interessante che è emersa dai nostri lavori è quella dell'introduzione, della mediazione dei conflitti dentro le mura. Non parliamo della mediazione fuori tra vittima e colpevole, che è stato poi oggetto di un altro tavolo, ma la mediazione interna. Perché i conflitti in una piccola comunità, come il carcere, noi sappiamo essere molto frequenti. Ma soprattutto il problema è che hanno delle conseguenze molto gravi, soprattutto a carico dei detenuti. E quindi è importante che si pensino degli strumenti di mediazione interna per sanare il conflitto tra amministrazione e detenuti, tra operatori della polizia penitenziaria e detenuti, prima che si arrivi poi alla sanzione disciplinare e alle difficili conseguenze che abbiamo detto. Infine, il tendenziale superamento dei circuiti e delle sezioni protette. Dico qualcosa sui protetti e poi vorrei parlare dei circuiti, se ho un po' di tempo. Allora, sui protetti è evidente che il principio che ha informato la nostra riflessione è che lo Stato non può far propria la mentalità carceraria. Quindi non può legittimare una gerarchia all'interno del carcere tra reati più gravi e reati meno gravi. Quindi il fatto che esista una sezione in cui alcuni detenuti debbano essere protetti dagli altri è già una perdita dello Stato, perché lo Stato si adagia a una mentalità carceraria. Dovrebbe essere il contrario. Dovresti inserire in una sezione protetti il detenuto che non rispetta la persona che secondo te ha commesso un reato più grave. Sui circuiti penitenziari e quindi alta sicurezza e 41 bis io vorrei dire qualcosa, anche se so, capisco quanto sia difficile parlare proprio oggi di circuiti penitenziari e di prevenzione della criminalità proprio perché in tempi di emergenze, anzi accolgo l'invito del Ministro Poletti, di urgenze, quali quelle del terrorismo internazionale, della radicalizzazione e anche in carcere ci impongano di andare sempre, di essere molto cauti. Però il tendenziale superamento della separazione in base al titolo di reato all'interno delle carceri ci è sembrato che fosse un obiettivo da raggiungere. La linea di fondo che ci ha ispirato è che va ribaltata la prospettiva. La prospettiva deve imporre un generale diritto a un trattamento penitenziario uguale per tutti, non differenziato. E poi si deve determinare invece in base, in maniera precisa e non generica, una eventuale differenziazione in base alla pericolosità del tenuto e alla necessità di assicurare la sicurezza interna ed esterna e non quindi in base alla gravità del reato che si è commessi. Vorrei fare un ultimo accenno sul 41 bis perché ieri se ne è parlato diffusamente e il fatto che se ne sia parlato in maniera così differente abbiamo sentito due opinioni totalmente divergenti ieri sul punto ci fa capire che l'argomento nell'immaginario collettivo è diventato quasi un simbolo. Quindi ogni discussione ragionata intorno al tema del 41 bis deve fare i conti con questa percezione che di per sé costituisce un problema. Vedete, il problema fondamentale, io credo che anche qui il tema del 41 bis vada affrontato sotto una prospettiva totalmente diversa da quella con la quale si affronta oggi perché oggi si parla sempre di attenuazione del carcere duro, di umanizzazione del regime. Non è questa la prospettiva, il problema non è umanizzare i rigoli del 41 bis, è di riportare questo strumento alla sua originaria vocazione. Questo è il punto fondamentale. Nessuno nega che il 41 bis sia stato e sia ancora uno strumento di portanza strategica nella lotta alla criminalità organizzata. Però non dobbiamo innanzitutto dimenticare che si sottrae alla procedura europea dell'articolo 15 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Una procedura che è necessaria ad attuare sospensioni di diritti e di garanzie del processo giusto. E soprattutto io credo che presenti oggi, dopo la riforma del 2009, un riferimento che è inconferente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza come obiettivo soltanto principale e non esclusivo della normativa speciale. Invece lo scopo del 41 bis deve essere esclusivamente quello, non principalmente, perché nel momento in cui si dice che è solo principale allora si legittimano le limitazioni e le proroghe che hanno travalicato lo scopo del 41 bis trasformandolo in non pochi casi in uno strumento di detenzione inumana e degradante. Si tratta quindi di un ulteriore inasprimento non necessitato dallo scopo originario che è quello della prevenzione in senso esclusivamente retributivo del regime carcerario. Mi devo fermare qui? Grazie. 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 Grazie.